del reato accertato, imputando l'amattore del terro per la suma di euro 9.575.000 e da 5 rato per la suma di euro 9.575.000. Visti gli articoli 533-535 del CQP, dichiara Falcone Nicola responsabile delle rate allo stesso ascritti sui numeri 1 e 7 dell'imputazione, avvinti e avvinto dalla continuazione e per l'effetto, riconosciuto in circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, oltre al pregumento delle spese del procedimento. Visto l'articolo 32-4 del CQP, affrite a Falcone Nicola la pena accessorica dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, collaborata di anni 2 e mesi 2. Visto l'articolo 322-3 del CQP,